Il Carnevale di Fogliano della Chiana Il Carnevale di Fogliano della Chiana Il Carnevale presentato al Media Center Sassoli a Palazzo del Pegaso è per 5 domeniche, dal 5 febbraio al 5 marzo. Una comunità che si è messa in moto ormai da 484 edizioni. Il Reggio Condo torna a far baldoria, torna a far rividere le strade, le piazze di Fogliano della Chiana. Uno dei carnevali più belli e più antichi d'Italia e io sono davvero felice che quest'anno torni nel suo tempo, il tempo del Carnevale. Dopo un'edizione che non si è svolta per i Covid, un'altra che purtroppo si è svolta in un periodo diverso da quello del Carnevale. Oggi finalmente una comunità torna a rivivere, anche nella competizione tra quartieri, la bellezza della storia, delle tradizioni, della sua identità. Una comunità che si rimette in cammino. Consentitemi di ringraziare la Presidente De Robertis per aver voluto la presentazione del Carnevale di Fogliano della Chiana in Consiglio regionale. Noi ci siamo posti l'obiettivo di essere vicini a quelle comunità che hanno anche meno voce, perché più piccole, ma che hanno tanta, tanta passione e tanta, tanta competenza. Tante iniziative belle, questa è una di quelle speciali che mi farebbe piacere che i cittadini della nostra Regione potessero conoscere e apprezzare. La Regione ormai sono molti anni che anche attraverso la sede del Consiglio regionale offre la possibilità ai territori di valorizzare le proprie eccellenze. Io oggi sono particolarmente felice perché da quel territorio vengo. Il Carnevale di Fogliano ormai è una conferma in tutta Italia, tutti gli anni migliora i propri carri, la bellezza, ma soprattutto, guardate, dopo il lockdown c'era tanto bisogno di stare insieme per fare qualcosa che è un obiettivo. In questo caso il carro, ma è tenere insieme giovani, persone, anziane, in un momento che dura tutto l'anno, di preparazione di quel carro che avrà nelle migliaia di persone che lo vedono il sì, il sorriso, l'applauso. È davvero uno spettacolo che merita vedere, ringraziando il comitato, ringraziando tutti coloro che lavorano durante l'anno, sacrificando famiglia, sacrificando orari dopo scena, magari in un grande capannone al freddo rispetto alle temperature, però in un calore di un territorio, di un paese, di una città che in questi giorni darà davvero il meglio di sé. Questo Carnevale è assolutamente per noi qualcosa di unico e importantissimo perché lega tutto il paese, lo lega tutto l'anno da un punto di vista sociale, ma anche economico perché attira da noi in queste cinque domeniche perché il Carnevale inizia il 5 di febbraio, per cinque domeniche finisce il 5 di marzo. Quindi per fortuna, dopo l'anno passato, che non ci siamo fermati, ma che è stata fatta un'edizione straordinaria in primavera, quest'anno si ritorna nel periodo di Carnevale e quindi da domenica inizierà, come sempre, la festa e giocare, divertirsi, la satira e lo stare insieme e condividere tutto quello che questi volontari che partecipano al lavoro dei quattro cantieri riescono a fare per tutto l'anno. Quindi davvero un ringraziamento a chi lavora e si impegna gratuitamente nei quattro cantieri, che sono Bombolo, Rustici, Nottamboli e Azzurri. Un volano per il turismo, per la promozione del nostro territorio, siamo molto felici di ripartire in quella che è la sua stagionalità, ovvero a febbraio il Carnevale di Foiano ormai è conosciuto in tutta Italia grazie allo sforzo che ha fatto sia l'amministrazione sia l'associazione Carnevale in questi anni e quindi speriamo, come è stato negli anni precedenti alla crisi sanitaria, che tornino a Foiano tante persone. Ormai è un qualcosa di conosciuto e ci aspettiamo veramente tanta gente per far conoscere non solo il Carnevale di Foiano ma tutto il nostro bel territorio. Il Carnevale di Foiano è uno dei più antichi d'Italia, risale al 1539, per cui quest'anno è la 484esima edizione. È un Carnevale storico, è un Carnevale dove oltre al divertimento si predilige la parte artistica della lavorazione della carta pesta. I nostri carri sono tutti completamente fatti in carta pesta e sono tutti meccanici, per cui noi li chiamiamo i giganti della carta pesta, dove sono dei carri che sfilano nel centro storico del paese, dove a un certo punto esplodono nella loro maestosità, nella loro grandezza, perché sono carri che in larghezza raggiungono quasi gli 8 metri, anche 10 qualche volta, e in altezza fino a 16 metri. Per cui sono carri imponenti e dove tutte le figure si muovono meccanicamente. Di media, gli anni passati avevamo intorno 5.000-6.000 persone a domenica, noi ci auguriamo di ritornare a quei numeri, forse anche qualcosa in più. Abbiamo notato già che c'è un discreto interesse, la gente ci contatta e ci chiede informazioni in merito. Novità di quest'anno, in particolare non ce ne sono tantissime, la novità in primis è che abbiamo creato un'area dedicata allo street food, per cui avremo un'area dedicata alla gastronomia locale e ai prodotti tipici della zona. Una targa al Tennis Club Sinalunga per celebrare i numerosi successi a livello nazionale raggiunti in poco più di 60 anni di storia. Il riconoscimento del Consiglio regionale è stato consegnato al sodalizio sportivo nella Sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso. Un risultato che ci manda un messaggio di speranza, che tutti possiamo farcela, basta ricordare i risultati degli anni precedenti. Un tennis club che negli anni è cresciuto e che appena arrivato in A1 è riuscito a vincere il campionato. Motivo di orgoglio per Sinalunga, motivo di orgoglio per la Toscana. Oggi siamo qui a dare questo riconoscimento, che è un modo per dire grazie, perché se siamo arrivati a questo punto, se il tennis club è riuscito a vincere il campionato è per l'impegno, la passione, la dedizione che è stata portata avanti negli anni, quelli più difficili, in cui crederci era davvero difficile. Raggiungere questo risultato, come ho detto all'inizio, vuole essere anche un messaggio di speranza, di provarci, di provarci sempre fino in fondo, di crederci perché è possibile. Un riconoscimento importante, il tennis club Sinalunga ha segnato la storia, ha fatto la storia del tennis italiano, essere campioni d'Italia in un tennis moderno, molto complesso, competitivo, al cospetto di grandi città, è un onore per Sinalunga, per la provincia di Siena, per la Toscana, e quindi era doveroso proporre in ufficio di presidenza un riconoscimento che segnasse una giornata storica per la nostra regione e credo che oggi questo l'abbiamo realizzato e penso che vada portato merito a tanti ragazzi, giovani, ragazze che si allenano costantemente, un circolo, la passione, a chi in termini di volontariato costruisce dedica il proprio tempo, la propria passione, per consentire agli altri di crescere nello sport in maniera sana, in uno sport che ormai è diventato un punto di riferimento oggettivo per quanto riguarda l'Italia, anche a livello mondiale e quindi vedere molti giovani che crescono in provincia, così come diciamo noi, per un territorio dal quale anche io provengo, è un momento di grande soddisfazione, è una targa che riconosce merito e che magari segna una data storica per quanto riguarda il tennis toscano e nazionale. È una grande soddisfazione che un piccolo club come il Tennis Club Sinalunga abbia raggiunto un risultato sportivo così importante, anche se bisogna dire che questo club ha sempre investito nello sport da molti anni e anche in passato ha ottenuto degli ottimi risultati legati alla promozione regionale, alla squadra femminile in B1, un'altra squadra maschile in B2, quindi diciamo che la vittoria del campionato italiano di quest'anno è stata la ciliegina sulla torta di un gruppo di persone che hanno saputo investire nello sport, nei giovani ragazzi ed hanno prodotto un ottimo risultato. E poi consentitemi di dire che danno un grande messaggio di speranza, che non è necessario essere magari in una grande squadra, in un grande club per raggiungere risultati che fanno veramente sognare. È una soddisfazione che ci gratifica a tutti i livelli, perché vedere il nome del mio comune, del circolo tennis di questo comune, è piccolissimo, accostato a circoli importanti di livello nazionale, è sicuramente una gioia infinita. Tutt'oggi ancora abbiamo lo striscione attaccato davanti al municipio, non so per quanto lo terremo, magari quando cambieremo il prossimo, il prossimo anno ce lo terremo. Quindi è un risultato davvero importante, che è bellissimo, che ancora stiamo organizzando insieme al circolo il modo di poterlo festeggiare nella maniera dovuta. Voglio ancora ringraziare sicuramente l'impegno, l'umiltà e il lavoro che i dirigenti e soprattutto i giocatori di questo circolo hanno fatto, perché grazie alla loro tenacia, aversi creduto fino in fondo, si può arrivare a vincere su squadre di livello che hanno dovuto competere con loro. Per cui questo avvalora ancora di più il risultato ottenuto, per cui è un ritorno importante anche dal punto di vista non solo sportivo, ma dal punto di vista aggregativo e di immagine del territorio, perché oggi il venire a giocare a Sinalunga per chi gioca a tennis per le aree limitrufe è diventato una cosa di primaria importanza. Per cui da sindaco qual è il problema ora? Chiaramente ci vogliono le strutture, ci stanno utilizzando strutture nuove, migliori, più adeguate, quindi spero che l'impegno nei prossimi mesi, nei prossimi anni sia questo, quindi dotare questo circolo delle strutture adeguate per poter continuare a svolgere e raggiungere obiettivi così importanti, che fanno grande Sinalunga e grande anche la Toscana oggi. Gli ingredienti sono tanti, sinceramente. Il premio che ci verrà dato fra poco è per festeggiare un risultato che per noi era sinceramente insperato, dobbiamo dirlo. Siamo arrivati in tanti anni che siamo ad alti livelli, però pensare di arrivare al primo play-off e poi addirittura in finale e poi completare la finale con un risultato che è, come è stato detto, storico, è un sogno che pensavamo che potesse realizzarsi, ma insomma non lo dicevamo in giro. Gli ingredienti quali sono? Un gruppo di persone appassionate che si dedica, anima e core, come si dice, a questo sport, a questa disciplina, con grande sacrificio, sacrificando appunto tempo libero e affetti personali. Un gruppo di ragazzi splendidi che negli anni sono cresciuti grazie anche allo staff tecnico che si è realizzato a Sinalunga negli anni che, insomma, dobbiamo dire, onore al merito, ha fatto crescere il livello dei ragazzi, facendoli sì divertire e giocare, ma fra tutti questi ragazzi sono nati poi degli atleti, che alcuni sono qui in questa sala, sono stati, insomma, fondamentali per il risultato che abbiamo ottenuto. Poi, come si dice, si è scatenata la chimica, quel giorno lì a Torino, l'11 dicembre, di non tanto tempo fa, abbiamo fatto la prestazione perfetta, hanno fatto la prestazione perfetta, quindi loro, un gruppo di appassionati, sacrificio, tanti tifosi, entusiasmo, siamo un piccolissimo circolo di campagna, di campagna che, insomma, siamo sempre stati ambiziosi e coraggiosi. Questa volta siamo stati premiati con il premio più ambito. Grazie a tutti.